San Buceto e Lanciano cercano punti importanti per obiettivi diversi nel corso della sesta giornata di ritorno di eccellenza. I padroni di casa, dopo la delusione della Coppa Italia persa in finale contro l'Aquila, vogliono chiudere il discorso salvezza. I frentani hanno invece bisogno di vincere per provare a riaprire la corsa play-off. Pronti via, il San Buceto si mostra subito padrone del campo e spaventa gli ospiti con una bella conclusione di Pellecchia. Elesai riesce a volare e a deviare in angolo. Sugli sviluppi del corner seguente però, i padroni di casa passano. Elesai riesce a deviare sul palo una prima conclusione, non potendo però nulla sul successivo colpo di testa di Ranieri. È il vantaggio del San Buceto, che già al quarto minuto è sull'1-0. Gli uomini di Ronci continuano a pressare e sfiorano il gol del 2-0 con Miciche al ventesimo minuto. La sua conclusione viene però deviata con i piedi da Elesai, che tiene in ballo il lanciano. Prova a farsi vedere qualche giro di lancetta più tardi anche il club di mister Pasculli, con una bella iniziativa sull'out di sinistra. La conclusione incocca sul palo esterno e termina sul fondo. San Buceto torna a spingere con una bella incursione di Ranieri. Il tiro dal limite dell'area di rigore è ancora una volta parato da Elesai, che è decisivo nel deviare in angolo. La reazione del lanciano arriva sotto forma di calci da fermo. La conclusione dal limite di De Marchi è deviata in angolo. E proprio dallo stesso corner De Marchi, di nuovo lui, propizia la deviazione e poi il gol di De Fabrizis, che riesce a superare Dedeo ed a trovare l'1-1. Gli ospiti riescono anche a ribaltare completamente la disputa, appena 7 minuti dopo il pari. Campagnol Bocchio viene infatti imbucato centralmente, riesce a controllare la sfera ed a saltare un uomo, prima di battere in modo imparabile l'estremo Dedeo per il gol dell'1-2. Nel primo tempo non succede più nulla e la ripresa si apre subito con il San Buceto, a due passi dal gol del pareggio. Un pallone messo in mezzo viene deviato più volte e, a portiere battuto, termina di poco fuori dopo un colpo di testa di Ranieri. I padroni di casa continuano a pressare e sbattono su un autentico miracolo del portiere Elesai all'ottavo minuto della ripresa. Su una potente conclusione ravvicinata, infatti, il numero 1 del Lanciano vola sul primo palo e manda in angolo, conservando il vantaggio dei suoi uomini. Il match resta molto aperto e il Lanciano va qualche centimetro dal tris con la conclusione di controbalzo di Mariano, che sfiora il palo alla destra di Dedeo e termina sul fondo. Il San Buceto riesce poi a trovare il gol del pareggio con Ranieri, alla sua doppietta personale, ancora una volta sugli sviluppi di un corner. Qui lo stacco è letteralmente perfetto e il giocatore dei padroni di casa riesce a battere Elesai per il 2-2. Il San Buceto sfiora anche il centro che varrebbe tre punti con un clamoroso colpo di testa, sempre da calcio d'angolo, di Carrascosa. La palla termina infatti di pochissimo fuori e Elesai è battuto. Ancora è crebbe di Ronci che spinge fortissimo e va ad un nulla dal vantaggio con una clamorosa conclusione di Del Greco, sulla quale Elesai si conferma portiere di primissimo livello per la categoria, sfoderando un autentico miracolo. L'ultima occasione del match è però per il Lanciano e vede Campagnol Bocchio concludere al volo verso la porta di Dedeo. La sfera termina sul fondo e non ci sono più opportunità per le due squadre, per portare a casa i tre punti. Alla fine di una gara molto viva e divertente. Direttore, una bellissima partita, purtroppo mancano ancora i tre punti. Sì, mancano ancora tre punti, ma sicuramente questo pareggio in un campo difficile come San Buceto crescerà un po' la nostra autostima perché non è facile dopo, scuse, non quattro, cinque sconfitte consecutive. Quindi peccato che eravamo in vantaggio, è stata una nostra disattenzione lì sul calcio d'angolo. Comunque pensiamo di riprendere la marcia, anche perché oggi eravamo proprio dimezzati, al di là di tre importuni dei che ce l'abbiamo fuori da più di un mese. I nuovi arrivati dei Fabrizio e dei Marchi li abbiamo messo subito in campo dal primo minuto perché eravamo messi male, quindi è un grande risultato per noi. Con mister Ronci, dopo questo bel pareggio per 2-2 dello Sportore, una bella gara mister. Il pareggio brucia, brucia tanto perché sull'1-0 per noi dovevamo chiuderla. Avevamo la partita in totale controllo, si arrivava facilmente davanti, dovevamo chiudere la partita. Poi c'è stato quell'episodio del calcio di punizione che vorrei rivedere, non si può dare un calcio di punizione al limite, così il mio giocatore stoppa la palla col sinistro, è normale che quando stoppi la palla il braccio ce l'hai aperto, non è che sbaglia il controllo, gli va a finire sul braccio, punizione dal limite e poi da lì è nato il calcio d'angolo del gol che abbiamo preso. Mi dispiace solamente perché il fallo non doveva essere fischiato, però quell'episodio ci ha condizionato tantissimo a livello psicologico e da quel momento in poi abbiamo smesso di giocare, abbiamo cercato solo di mettere la palla davanti facendo le cose più semplici, ma noi non siamo una squadra che può fare quello e Lanciano ne ha approfittato, ci ha fatto il secondo gol, abbiamo regalato 30 minuti in 25 minuti a loro inspiegabili e la potevamo perdere questa partita.